Quattro misure cautelari di sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio per la durata di un anno sono state notificate oggi da altrettanti dipendenti del comune di Procida, in provincia di Napoli, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP Tommaso Perrella della 39esima sezione del Tribunale di Napoli. I reati ipotizzati sono truffa, aggravata ai danni dello Stato, abuso d'ufficio e false certificazioni e attestazioni. Altri otto dipendenti comunali risultano indagati, tra i quali due dirigenti dalle indagini dei militari di Procida e dal nucleo operativo di Ischia sarebbero emersi diversi episodi di assenteismo tramite attività tecniche come badge timbrati da altri dipendenti per consentire ai lavoratori di allontanarsi arbitrariamente dal lavoro. I carabinieri hanno documentato l'attività di indagine grazie a numerose telecamere mimetizzate nel palazzo comunale e con appostamenti e pedinamenti.